La geografia non studia solo la forma del territorio e le caratteristiche della popolazione, ma anche il modo in cui questo territorio è organizzato dal punto di vista politico. La geografia dunque si occupa anche degli stati. Ma che cos'è esattamente uno stato? Lo stato è l'insieme di un popolo, del territorio su cui vive e delle leggi che ha deciso di seguire. Il territorio dello stato è la parte di superficie terrestre delimitata dai suoi confini. Il popolo di uno stato è costituito dalle persone che vi abitano e che sono definite cittadini. La cittadinanza si ottiene per nascita, in Italia solo se almeno uno dei genitori è cittadino italiano, oppure in seguito al matrimonio con un cittadino o grazie alla prolungata residenza nel paese. L'Europa è divisa in 45 stati. Ogni stato si dà una forma e un ordinamento politico. Per quanto riguarda la forma, possiamo distinguere tra stati unitari e centralizzati, come la Francia o stati federali, come la Svizzera e la Germania, che riuniscono stati o regioni dotati di poteri autonomi con parlamenti e governi propri. I tipi principali di ordinamento politico sono invece la monarchia, che prevede come suo massimo rappresentante un re o una regina che resta in carica tutta la vita e trasmette poi il trono ai figli, la repubblica, in cui tutti i rappresentanti sono eletti e rimangono in carica per un periodo prestabilito. Le repubbliche si dividono a loro volta in parlamentari, quando è Parlamento, eletto dal popolo, a nominare il capo dello Stato e a concedere la propria fiducia al governo, come l'Italia. E presidenziali o semipresidenziali, in cui il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini ed è anche il capo del governo, come la Francia.